Buonasera e ben ritrovati nel nostro telegiornale. Iniziamo innanzitutto con un aggiornamento relativo alla situazione del nuovo ponte di Genova perché non è illegittimo estromettere Autostrade per l'Italia dalla ricostruzione del ponte Morandi stando a quanto ha stabilito la Corte Costituzionale ritenendo non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata a volta la scelta delle imprese a cui affidare le opere di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. La decisione del legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto in via precauzionale a non affidare i lavori alla stessa società incaricata della manutenzione. Ha reso noto l'ufficio stampa della consulta nell'attesa del deposito delle motivazioni della sentenza. Ci conforta sapere che la decisione elaborata a suo tempo dal governo sia pienamente costituzionale ha commentato il Premier Conte. Intanto l'esecutivo è diviso sulla decisione di affidare ad Aspi anche pro tempore come atto dovuto verso l'attuale concessionario la gestione del nuovo ponte di Genova. La Ministra delle Infrastrutture De Micheli sottolinea che la scelta non preclude la eventuale revoca delle concessioni ma il Movimento 5 Stelle attacca affermando non arretriamo il ponte non va riconsegnato e Benetton appunto è quanto afferma il capo politico Vito Crimi. Luigi Di Maio dal quanto suo chiede di mantenere le promesse fatte alle famiglie delle vittime tra le quali quella che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade tantomeno il ponte. Cosa si fa per salvare la poltrona? 5 Stelle ridicoli e bugiardi e l'attacco del leader della Lega Matteo Salvini. Il Premier Conte ha affermato porteremo il dossier autostrade in consiglio dei ministri una decisione di tale importanza che va coinvolto tutto il governo. Finché non c'è una revoca ha ricordato il Premier la gestione non può che essere nelle mani del concessionario. E a proposito del Premier Conte che ieri ha avviato con l'incontro in Portogallo con il Premier Costa il ciclo di incontri con altri leader europei e questo in preparazione del prossimo consiglio europeo previsto tra il 17 e il 18 luglio. Conte dunque oggi ha incontrato invece a Madrid il presidente del governo spagnolo Sanchez. Nel corso della conferenza stampa da entrambi è arrivato il pressing per un accordo entro luglio sulle recovery fund. Infatti Conte ha ribadito l'Europa deve agire unita, dobbiamo finalizzare ha detto il pacchetto di risposte già entro la fine di questo mese. Non possiamo indietreggiare ha continuato Conte rispetto alla proposta della Commissione europea. Questa emergenza sanitaria ha affermato dal conto suo il Premier spagnolo Sanchez si traduce in emergenza economica e sociale. La risposta deve essere nazionale ma anche europea. sugli strumenti come il recovery fund ha detto Sanchez serve dunque una risposta comune che venga dall'Europa. Non può esserci un altro momento per l'accordo oltre luglio. No ha compromessi a ribasso dunque hanno ribadito entrambi alla fine della conferenza stampa e dell'incontro a Madrid. Il Premier Conte ha espresso anche nel corso di questa occasione il cordoglio personale a nome del governo e ovviamente anche del popolo italiano per le tante vittime e sofferenze che la pandemia ha procurato anche in Spagna. E a proposito del Covid-19 vediamo la situazione contagi in Italia stando all'ultimo aggiornamento fornito dal Ministero della Salute. Rispetto a ieri si registrano altri 193 nuovi casi, una settantina dei quali in Lombardia e una cinquantina in Emilia-Romagna. Rispetto a ieri i nuovi decessi sono 15, 12 in Lombardia, due in Toscana e uno in Sicilia, per un totale di 34.914 persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza. Quattro le regioni che non fanno segnare nuovi casi, ossia Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento. Gli attualmente positivi sono 13.595, vale a dire 647 in meno rispetto a ieri. 825 invece i nuovi dimessi e guariti, per un totale che raggiunge così quota 193.640 persone. La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo non ha più pazienti contagiati dopo 137 giorni dal primo ricovero per Covid-19, avvenuto il 23 febbraio. In ricordo delle vittime si è rispettato qualche stanze di silenzio, poi è partito un forte applauso per il risultato raggiunto dai circa 400 operatori che lavorano nelle terapie intensive del Papa Giovanni. Vediamo ora assieme i titoli del nostro Tg delle 19. Quattro nuovi casi asintomatici di Covid-19 registrati nelle ultime ore in regione, tutti provenienti dai Balcani, nella città dei cantieri ad alto rischio per il rientro è attivato una palestra per i tamponi. Operazione antidroga dei carabinieri di Sacile, tra Veneto e Friuli è arrestato un 25enne di Colle Umberto, il giro d'affari non si era fermato nemmeno nei giorni più difficili del lockdown. L'allarmante fotografia dell'assessore regionale in consiglio mancano 900-200 di sostegno e 500 per sdoppiare le classi, oltre a 300 unità del personale tecnico-amministrativo. Presentato il cartellone di appuntamenti estivi di città al via da domani, concerti, teatro, animazione e campane in simultanea, rimane però la sofferenza di una categoria falcidiata dagli annullamenti. I bianconeri domani a Ferrara con inizio alle 19.30 devono riscattare il passo falso con il Genoa anche perché il Lecce si è avvicinato, Sigelar per lo sporificato Sema o Caca, accanto a Lasagna. E dunque in merito alla situazione contagi sul territorio regionale sono almeno 4 i nuovi casi di origine balcanica rilevati tra Trieste e Pordenone, tutti i casi asintomatici. Lo ha annunciato l'assessore Riccardi. Due risultano a Trieste, uno è legato al primo focolaio della ditta Importa Export, il secondo è di una donna di rientro dal Kosovo che seguendo correttamente le procedure si è autosegnalata alle autorità sanitarie del territorio. Le persone sono ora in isolamento. Vediamo il servizio con tutti i dettagli. Quattro nuovi casi asintomatici di Covid-19 registrati nelle ultime ore in regione. A darne notizia con un tweet nel pomeriggio al Vice Governatore Riccardo Riccardi, il quale ha specificato che le persone interessate sono tutte in isolamento e sono riconducibili a provenienza dall'area balcanica. I dipartimenti di prevenzione, scrive ancora Riccardi, proseguono le attività di ricostruzione dei contatti avuti. Attualmente i positivi in Friuli Venezia Giulia sono a quota 113, uno in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti sono 8. Non si sono registrati nuovi decessi. Nel pomeriggio di oggi Riccardi si è confrontato con il commissario di governo Valenti e con i consoli di tutti i paesi extra Unione Europea presenti sul territorio regionale. Innanzitutto per ribadire le regole, per chi viene infatti da determinati paesi rimane l'obbligo di quarantena fiduciaria al rientro e quindi per cercare di rintracciare più persone possibili da sottoporre a tampone tra chi è rientrato in Friuli Venezia Giulia da quelle aree nelle ultime due settimane. Alla videoconferenza ha partecipato anche la rappresentante del comune di Monfalcone, oltre alla referente della comunità bengalese della città dei cantieri, dopo il blocco dei collegamenti voluti dal governo a causa dell'alto numero di positivi trovati sul volo Dacca-Roma. La situazione, secondo la sindaca Anna Maria Cisinte, è sotto controllo. In base ai dati raccolti dall'amministrazione con l'aiuto della Questura, dall'inizio del mese di giugno sono 35 nuovi residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea a cui si aggiungono 280 persone registrate a Monfalcone come ospiti. Questi saranno chiamati dall'azienda sanitaria per essere sottoposti a tampone e a tal proposito il comune ha messo a disposizione gli spazi del centro sportivo integrato ospitato nell'ex mercato coperto. Ma non basta perché l'amministrazione ha pure contattato i rappresentanti delle varie associazioni a cui fanno riferimento le comunità bengalesi cittadine in modo da coinvolgerli nelle operazioni di monitoraggio. C'è la necessità che la struttura di Mugia continui a essere gestita dalla protezione civile regionale per essere destinata agli isolamenti e alle quarantene da coronavirus. Quanto ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi proprio a margine dell'incontro in videoconferenza con il prefetto di Trieste e i vertici dell'autorità militare proprietaria dell'immobile. Ringrazio per la disponibilità ottenuta auspicando di aver superato un problema tecnico ha spiegato Riccardi che per un momento aveva messo in dubbio la possibilità da parte del sistema sanitario regionale dunque di poter usufruire di quella struttura. Un imprenditore di Oriago invece nel Veneziano è risultato positivo ai test Covid-19 durante un viaggio in Africa per motivi di lavoro. L'uomo molto attivo nei settori dei mobili e delle costruzioni è stato sottoposto a un controllo al suo arrivo in Uganda dove è atterrato diretto nel Benin. Dopo il test è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Da quanto si è preso si è costantemente sottoposto ai controlli sanitari fino all'ultimo test una settimana fa, risultato negativo ed è stato lui stesso ad avvertire immediatamente il proprio medico di base. A destare preoccupazione infatti era il fatto che alla vigilia della partenza avesse partecipato a una cena in un ristorante di Padova insieme a numerose persone in tapponi eseguiti sui partecipanti alla serata e su quanto hanno avuto i contatti con loro hanno dato esito negativo. Vienna ha sconsigliato i viaggi in Romania, Bulgaria e Voldavia a causa dell'amento dei casi di coronavirus proprio in questi paesi. I viaggi di questi paesi, infatti ha detto il cancelliere Kurz, vengono vivamente sconsigliati. Chi rientra in Austria deve stare due settimane in quarantena oppure presentare un test covid negativo. La scorsa settimana l'Austria aveva già chiuso verso Bosnia-Herzegovina, Serbia, Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro. Kurz ha annunciato anche l'intensificazione dei controlli di confine verso est con 1800 poliziotti. Parliamo ora dei carabinieri di Sacile che hanno smantellato una banda dedita stando all'accusa allo spaccio di droga e composta da otto ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno smantellato un'organizzazione composta da otto ragazzi tra i 18 e i 25 anni che rifornivano di marijuana giovanissimi consumatori della zona a cavallo tra Friuli e Veneto. Un giro d'affari complessivo da oltre 20.000 euro al mese. L'operazione, denominata Terra di Confine, era partita in seguito a un controllo a maggio 2019 a cui erano stati sottoposti alcuni studenti, tutti minorenni, di un istituto professionale di Sacile. Con l'ausilio di unità cinofili antidroga, i militari avevano sequestrato a carico di due quindicenni circa 15 grammi di marijuana, materiali per il confezionamento e bilancini di precisione, oltre a 300 euro in contanti ritenuti provento o dispaccio. I giovanissimi erano stati denunciati alla Procura della Repubblica, mentre altri cinque erano stati segnalati perché trovati in possesso di quantitativi di cannabis per uso personale. I carabinieri si sono quindi messi al lavoro per individuare i canali di approvvigionamento delle sostanze. Nell'arco di alcuni mesi sono riusciti a risalire agli otto giovani. Il capo della banda era un operaio 25enne di Collo Umberto con precedenti, arrestato in flagranza di reato. Nella sua abitazione nascondeva oltre 5 chili di marijuana. L'ingente quantitativo di stupefacenti era suddiviso in sacchi, nascosti tra camera da letto, cucine e deposito attrezzi, confezionati in involucri di plastica sottovuoto con dublice strato di nylon a formare un'intercapedine profumata per fuorviare eventuali controlli con cani antidroga. L'organizzazione era consolidata e gerarchicamente ben strutturata. Il 25enne si affidava a spacciatori tra i 18 e i 22 anni, di Caneva, Montebelluna, Ravine Lago e San Venemiano, che smerciavano marijuana e all'occorrenza anche altre sostanze. I contatti nella banda avvenivano mediante app i cui messaggi venivano autoeliminati dopo pochi secondi. La posizione dei sette giovani, tutti senza stabile occupazione, alcuni di loro appartenenti a famiglie benestanti, è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Per loro l'accusa è cessione illecita di marijuana continuata. Il 25enne invece è in carcere, in attesa dell'accoglimento di una misura cautelare meno severa, con richiesta di proteggiamento formulata dal suo legale. E' stato ritrovato sano e salvo il parapendista segnalato in difficoltà intorno alle 15 e 15 di questo pomeriggio, con atterraggio d'emergenza nella zona compresa tra il monte San Simeone e il monte Festa, sul versante ovest del lago di Cavazzo. L'uomo, classe 1986 e di nazionalità slovena, è stato avvistato, come riporta una nota del soccorso alpino e speleologico regionale, alle 16.40 dopo vari sorvoli con l'elicottero della protezione civile, mentre scendeva a piedi con la vela sulle spalle. Una squadra di soccorritori lo ha raggiunto per accompagnarlo a Varle ed è risultato dunque in colume. L'area in cui è effettuato l'atterraggio di emergenza è nota ai parapendisti locali come una zona particolarmente pericolosa. A segnare la sua parabola discendente era stato un altro parapendista. Parliamo ora dell'Associazione Nazionale dei Costruttori che guarda con fiducia le novità introdotte dal decreto semplificazioni volte a velocizzare gli appalti. Noi abbiamo sentito il presidente regionale Roberto Contessi con il quale abbiamo fatto anche il punto della situazione in merito al comparto. Queste nuove indicazioni che danno il decreto semplificazioni permetterebbe fino a 5 milioni di evitare 5 aziende senza abbandono, senza prequalifica. Credo che questo sia un percorso da intraprendere. Noi stavamo già cercando con la regione di fare qualcosa di analogo ma se lo fa il governo chiaramente velocizzano tutto e tutte le aziende della regione hanno vantaggio. E poi c'è anche l'affidamento diretto per invece i piccoli lavori, diciamo così sotto i 150 mila euro. Crediamo che 150 mila euro al giorno d'oggi sono un appalto talmente piccolo che fare una gara per scegliere un interlocutore è paradossale. Credo che su quelle cifre lì ci debba essere più la fiducia nell'interlocutore che sul risparmio perché poi alla fine i lavori vanno fatti nei tempi previsti. Genova insegna che un grande appalto si può fare in tempi strettissimi se le modalità di gara consentono un tipo di aggiudicazione basato sulla conoscenza, sulla professionalità delle imprese e non solo sul prezzo. Perché è inutile mettere solo il prezzo come discriminante se poi il lavoro invece di essere fatto nei tempi previsti impiega il doppio per essere realizzato. Di cosa ci sarebbe bisogno ancora? Ma la situazione nostra diciamo rispetto alla pandemia ancora non è significabile perché noi viviamo ancora degli appalti contrattualizzati prima del problema Covid. Il futuro onestamente non sappiamo cosa ci prospetterà. Adesso con il bonus per l'edilizia sicuramente ci sarà un volano interessante. Sulle basi delle infrastrutture invece siamo più dipendenti dai finanziamenti pubblici quindi questo bisognerà vedere lo Stato quanto riuscirà a dedicare al nostro settore. In tutte le crisi mondiali si è utilizzato il nostro settore per cercare di riattivare l'economia. Io credo che l'indotto che noi garantiamo con il nostro lavoro, con le nostre aziende sia unico. Pertanto se verranno investiti i somme importanti nel nostro settore il vantaggio sarà spalmato su tutte le categorie merceologiche. Questo è sicuro perché noi abbiamo un moltiplicatore circa di 3.5 per ogni milione investito. Teniamo conto che solo la regione fiscalmente si riprende il 18% quindi sono numeri importanti. Il cotonificio Amman di Pordenone è stato venduto all'asta. Comprato da un'accordata di imprenditori veronesi il complesso sarà riqualificato con residenze e servizi. L'ex cotonificio Amman di Pordenone è stato acquistato da un'accordata di imprenditori della Valpolicella in provincia di Verona. L'asta che contava un solo partecipante è finalmente andata a buon fine dopo numerosi tentativi finiti con un nulla di fatto. Questo complesso di archeologia industriale ha una superficie di 12 ettari, si trova a pochi passi dal centro cittadino e da molti anni è in attesa di una riqualificazione. L'antica struttura è stata costruita nel 1875 e all'epoca era il fulcro dell'economia pordenonese. Dopo l'alluvione e la conseguente pina del noncello del 1966 il cotonificio ha cessato la produzione avviandosi a un processo di degrado che ha coinvolto tutti gli ambiti architettonici dell'insediamento. L'annuncio della vendita è stato dato oggi dal sindaco Alessandro Ciriani. L'accordata si è assicurata all'ex cotonificio per una cifra di 1 milione e 275 mila euro. Ora si inizierà a lavorare al progetto di riqualificazione che potrebbe essere diverso dalle ambizioni dell'amministrazione comunale di poter allargare gli spazi del consorzio universitario e creare un museo della storia industriale. Nelle intenzioni dell'accordata Veneta ci sono la creazione di aree residenziali servizi e zone verdi. Un progetto che richiederà quindi delle modifiche al piano regolatore. Se il governo continuerà a non fornire alcuna certezza alle regioni sul riparto di risorse e di personale per il mondo della scuola in Friuli Venezia Giulia sarà difficile garantire un ordinato percorso di riavvio dell'attività didattica. A lanciare l'allarme l'assessore regionale all'istruzione e all'università Alessia Rosolen ricordando con chiarezza come l'intesa sul piano scuola 2020-2021 sia stata siglata dalle regioni a condizione che il governo fornisse in tempi brevi risorse organico per le soluzioni organizzative didattiche previste. In Friuli Venezia Giulia, spiega Rosolenne, sono necessari 900 docenti di sostegno in più, ulteriori 500 insegnanti per consentire lo sdoppiamento delle classi e scongiurare i sovraffollamenti, oltre ad almeno 300 unità di personale ATA, considerata l'esigenza di assicurare una sorveglianza adeguata in una fase delicata per l'emergenza epidemiologica come quella che stiamo vivendo in questi mesi. Di fronte a questa situazione già grave si aggiunge un'ulteriore criticità, aggiunge Rosolenne, che riguarda i 300 docenti diplomati magistrali licenziati il 30 giugno scorso. Si tratta, spiega, di insegnanti esclusi dalle graduatorie perché non in possesso di laurea, ai quali è stato proposto un contratto a tempo determinato con perdita della NASPI. Un problema annoso e mai risolto, conclude Rosolenne, comune a tutto il territorio nazionale. Spostiamoci ora a Udine dove è stato presentato il calendario dei nuovi eventi. Udine Estate, un articolato programma che mira a far rivivere la bella stagione del capoluogo friulano. Previsti decine di concerti e poi cinema all'aperto, spettacoli comici, teatrali e musicali. Durante la conferenza però è stato anche affrontato di nuovo il grave problema degli artisti con solo uno su quattro che è tornato a lavorare. Sentiamo. Domani sera inizieranno i concerti, ogni settimana ci sarà un concerto, quindi daremo la possibilità a tanti musicisti di esprimersi con questa musica, ma non sarà solo jazz, sarà anche una musica classica sia su in castello che in altre parti della nostra città. È un grosso lavoro che abbiamo voluto e che abbiamo finanziato perché sappiamo che molti artisti in questo periodo hanno dovuto anche loro rimanere fermi, quindi la chiusura ha comportato per molti di voi, perché siete lì davanti a noi oggi in questa loggia del Lionello, avete sofferto un po' delle restrizioni economiche del coronavirus. Questi eventi permettono ai turisti non solo locali, quest'anno noi ci dovremmo abituare, c'è poco da fare perché vedo stentano, c'è ancora molta paura in giro e purtroppo i segnali che ci arrivano anche dai Balcani non sono proprio incoraggianti, ci dovremmo abituare a tanti turisti autottoni, però insomma vedere le vie principali così animate come non si era mai vista e poi sentire, perché a me piace una cosa, al di là di parlare tra addetti e lavori che magari ci si fa i complimenti a vicenda, a me piace sentire proprio gli operatori, i fruttori dei servizi e quello che ho sentito è un messaggio assolutamente positivo, mi hanno detto, beh, finalmente Udine offre un qualcosa di diverso, un qualcosa di meraviglioso, finalmente stiamo rivivendo le vie e le piazze, finalmente agli operatori vengono date delle opportunità che un tempo non avevano. È finita l'emergenza, ma non è proprio così, perché in realtà noi, ripeto, per uno che lavora ce ne sono quattro che non lavorano, in questa regione ci siamo contati tra artisti e tecnici, organizzatori e insomma tutta la filiera dello spettacolo dal vivo consta più di duemila persone, ecco ne lavoreranno circa 400 a fronte di 1600 che resteranno a casa e non voglio guastare, fare la guastafeste e dire cose negative, però dopo l'estate arriva l'autunno e arriva l'inverno e qui per noi c'è una grandissima incertezza e per questo noi cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni, gli enti e per questo anche chiediamo questo benedetto tavolo in regione per essere ascoltati. Parliamo ora della riserva regionale del Cornino, la riserva naturale che ha riaperto i battenti, sono previsti tanti eventi con il via dal 18 luglio e dunque vediamo. Il Covid-19 ha inciso sui grifoni cui la riserva è sempre stata operativa? Beh, non sempre, sulla riserva ha inciso, sui grifoni non tanto, sulle attività ovviamente ha inciso perché abbiamo tenuto chiuso, adesso è riaperto ma con delle norme ovviamente che dobbiamo seguire. Sui grifoni non penso tanto, indirettamente sì nel senso che anche noi che abbiamo un punto dell'alimentazione che viene rifornito è stato un po' più difficile trovare le carcasse che utilizziamo per alimentare questi grifoni, ma sul resto dell'attività non penso proprio, anche perché i grifoni sono abituati alla presenza umana, sicuramente altre specie animali hanno avuto grossi vantaggi, noi avevamo girato in montagna per fare monitoraggi e si vedeva che alcune erano più tranquille, si avvicinavano alle strade eccetera, ma per il grifone non penso abbia influito. Interessante come la colonna si sta evolvendo, diciamo che siamo partiti più di 30 anni fa, quindi è una lunga storia, ma il grifone è molto lento, è molto lento, è grosso, lento in tutte le cose e anche nella biologia riproduttiva e quindi ci sono voluti anni ed è ancora in corso ovviamente l'evoluzione del spaziale e numerica della colonia, ma diciamo che quest'anno, il monitoraggio lo faccio io personalmente, abbiamo scoperto delle nuove aree di nidificazione, non solo sulle prealpi come tradizionalmente dove nidificava tradizionalmente, ma anche in zona alpina, quindi in aree alpine, anche molto fredde durante l'inverno dove questa specie nidifica, è chiaro che il freddo non è per lui un problema, però insomma siamo rimasti sorpresi anche noi da questi. Il numero di coppie sta ancora finendo, il monitoraggio, i giovani sono grandi ormai, quasi, non proprio, ma mancano poche settimane all'involo, comunque supera i 40 unità, quindi oltre 40 giovani che è un numero eccezionale, l'altro anno eravamo a 33 ed era già un record, quest'anno è ancora un record ulteriore e anche il numero di coppie aumenta, sono almeno 60, distribuite in una zona sempre più vasta che oltre alle prealpi, come dicevo, comprende anche la zona alpina, ma varie vallate. Noi facciamo delle osservazioni qui sul punto di alimentazione con webcam e canocchiali, vediamo tutti gli uccelli che hanno delle marcature, che possono essere marcature all'aero degli anelli e quindi sappiamo, abbiamo un grandissimo numero di dati, ma oltre a questo abbiamo delle radio satellitari di ultima generazione, leggerissime, che non danno alcun fastidio agli uccelli, con le quali riusciamo a seguirli addirittura secondo per secondo in certi momenti della giornata. Quando un grifone con la radio va in un'altra zona ci scambiamo i dati per poter avere un quadro molto preciso di quello che succede nei rispettivi territori di studio. Veniamo ora allo sport all'Udinese che domani sera sarà di scena a Ferrara contro la Spal. Non ci sarà però Iaialo, infortunatosi all'ultimo istante, quindi non convocato. L'obiettivo è ovviamente non fallire il secondo match point per la salvezza. A Ferrara per non fallire il secondo match point consecutivo dopo quello gettato alle ortiche domenica, scorsa contro il Genoa. A Ferrara però senza Mato Iaialo, infortunatosi all'ultimo momento e quindi non convocato per la sfida di domani sera a causa di un'elongazione muscolare. Al suo posto Gotti ha chiamato il primavera Ovisac. Si parlava di Genoa perché il gol di Pinamonti ha riacciuffato un Udinese che stava cercando di scappare, di allontanarsi dalle sabbie mobili della lotta salvezza. L'attaccante Scuola Inter però ha rimesso tutto in discussione e allora adesso per i bianconieri ci sono altre due gare in cui sarà necessario fare punti prima del trittico impossibile contro Lazio, Napoli e Juventus. Domenica ci sarà la Samp alla Dacia Arena ma prima depo le compagni se la vedranno contro la Spal, fanalino di coda con 19 punti raccolti in 30 giornate, 13 meno dell'Udinese. I biancoazzurri prima della sosta avevano trovato un'importantissima vittoria in trasferta sul campo del Parma per 1-0, tre punti che sembravano poter dare una scossa agli uomini di Di Biagio e invece dalla ripartenza gli estensi hanno raccolto soltanto un punto in quattro gare ottenuto grazie al 2-2 contro il Milan con i rossoneri capaci di pareggiare dopo essere andati sotto per 2-0. Questo misero punticino relega la Spal all'ultimo posto anche nella classifica post-Covid, infatti con la vittoria del Lecce di ieri sulla Lazio la Spal resta l'unica squadra a non avere ancora vinto dalla ripartenza in poi. Sperando che questo tabù non si spezzi proprio contro l'Udinese va ricordato che in terra emiliana i bianconeri non hanno mai vinto da quando la Spal è tornata in massima serie tre anni fa. Al primo anno ci fu una sconfitta per 3-2 che coincise con la prima vittoria degli estensi in A dal 1968, l'anno scorso 1-0-0 che accontentò entrambe le formazioni. Inoltre tra Spal e Udinesi in questi tre anni non è mai uscito il segno 2. Che possa cambiare domani questa tendenza può essere perché giocando come contro Roma e Genoa i bianconeri si toglieranno più di una soddisfazione da qui a fine campionato. Occhio però a Petagna, pericolo pubblico numero 1, che all'Udinese in carriera ha già segnato due volte, una con la maglia dell'Atalanta e quest'anno è già arrivato a quota 12 centri. Per quanto riguarda la formazione Ziegler dovrebbe agire sulla sinistra al posto dello squalificato Sema. In mezzo a questo punto giocherà Wallace, Ballottaggio o Kaka Nestorowski davanti. Dopodomani sera invece al Rocco di Trieste il Pordenone affronterà il Pisa nella gara valida per la trentatresima giornata di Serie B. Sentiamo. Semplicemente la squadra più in forma del campionato. Sì, stiamo parlando del Pisa, prossimo avversario del Pordenone venerdì sera nella gara valida per la trentatresima giornata di Serie B. I nerazzurri, analizzando l'ultima gara prima dello stop e le quattro partite disputate dalla ripartenza in poi, hanno collezionato 13 punti sui 15 disponibili. Nessuno ha fatto meglio. Un ruolino impressionante che ha proiettato gli uomini di D'Angelo all'ottavo posto insieme al Chievo, ultimo slot per agganciarsi al treno playoff. E a questo punto i toscani non hanno alcuna intenzione di fermarsi, ma soprattutto non hanno niente da perdere. E anche la tradizione non porta bene al Pordenone, che contro il Pisa non è mai riuscito a segnare negli ultimi tre precedenti, collezionando un pareggio e due sconfitte, compreso il 2-0 dell'andata firmato Marconi. E proprio l'attaccante sarà l'uomo da tenere d'occhio dopodomani al Rocco di Trieste. Il classe 89, oltre alla doppietta dell'andata, ha segnato altre due reti al Pordenone quando vestiva la maglia dell'Alessandria. Insomma, quando vede Nero Verde si esalta e in stagione ha già raggiunto quota 13. Tesser avrà sicuramente fatto tutti questi ragionamenti e starà preparando al meglio quella che sarà una partita fondamentale per i ramarri. Da adesso infatti si fa sul serio, alla fine mancano sei giornate e se la partecipazione ai playoff per il Pordenone è quasi certa, si può ancora sognare di agguantare quel secondo posto che significherebbe promozione diretta. Il Crotone d'altronde dista solo tre lunghezze. Capitolo, formazione di Gregorio non dovrebbe farcela, giocherà Bindi, Camporese deve scontare l'ultimo turno, disqualifica Gasbarro e Strizzolo, quasi out. Buone chance di recuperare invece Barison e Gavazzi. Scalpita Vogliacco per giocare al fianco di Bassoli in difesa. Confermato Mazzocco a centrocampo, sulla tre quarti dovrebbe agire Tremolada con Ciurria e Candellone davanti. E dal calcio, dallo sport, passiamo ora alle prime pagine fino a questo momento giunte in redazione. Andiamo a scorrerle assieme. Abbiamo innanzitutto il giornale che titola così, sul ponte sventola bandiera bianca, grillini a pezzi. Il governo affida il nuovo Morandi ai Benetton e il Movimento 5 Stelle esplode. Scelta inaccettabile, Conte ora rimedi. Prodi a sorpresa, che dice Berlusconi al governo, non è tabù. Abbiamo anche il Libero, sempre sulla questione delle ponte di Genova. Benetton prende autostrade, Ponte Morandi incluso, la disfatta di Conte e Grillini. Dopo aver incolpato il gruppo di Treviso del disastro, il governo 5 Stelle gli dà in gestione il nuovo viadotto. Eppure, giurava, ritireremo le concessioni. I cantieri al sud, al nord le spese, Fontana, piano da rifare. Abbiamo anche il Foglio, andiamo a vedere in evidenza il titolo in rosso, che le parole sono queste, il processo che manca a Salvini. E poi le parole che accompagnano questo titolo ancora sono un malcontento al nord, alleati coltelli, rilevanza del progetto, un centrodestra senza direzione può essere una buona notizia per il governo, ma è una pessima notizia per il Paese. Quanto può durare nella Lega il silenzio degli incoscienti? Questo è appunto uno dei temi principali riportati dal Foglio, nella edizione, che appunto da domani sarà nell'edicole, ovviamente in vendita. Ma vi rimando come sempre alla nostra rassegna stampa di domattina alle 7, per un ulteriore approfondimento anche rispetto agli altri temi importanti della giornata, sia a livello nazionale che internazionale che è locale, ovviamente allo sport. Grazie per averci intanto seguito fin qui, vi salutiamo con Accade Oggi a cura di Guido Gomirato. Buonanotte. L'8 luglio 2006 l'Udinese ufficializza l'acquisto di un giovane difensore centrale, Andrea Coda, che proviene dall'Empoli. E nell'Empoli è cresciuto anche a livello giovanile. Coda fa parte della squadra che è allenata da Giovanni Galeone, mai chiuso da elementi importanti, Natali, Zapata, anche Felipe. Comunque nella sua prima stagione in terra friulana riesce a collezionare 22 presenze in campionato. In seguito troverà più spazio, anche se dovrà fare i conti con una concorrenza assai agguerrita. Ad esempio nel 2008 arriva l'Udinese anche Domizi, per cui Coda non sempre è titolare, ma il suo dovere lo fa in tutte le gare, tanto da meritarsi il plauso dei tifosi, di cui è un beniamino. Ma la sfortuna è in agguato nel 2008-2009, in una gara contro lo Zenit di San Pietroburgo. Si gioca a Udine, il match di ritorno vince l'Udinese 2-0 dopo aver perso la gara di andata per 1-0. Coda, con il punteggio fermo sullo 0-0, nel tentativo di salvare un gol che sembrava quasi fatto, si infortuna seriamente un problema muscolare che lo costringerà a lungo out. E quel salvataggio, quel sacrificio di Coda, alla fine saranno determinanti per il passaggio del turno in Coppa UEFA, da parte dei bianconeri. Coda sarà vittima di un infortunio ancora più grave, l'8 maggio 2011 è di scena a Firenze e dopo pochi minuti subisce la rottura del crociato. Un altro stop, ancora più lungo, ma Coda è tenace, non si arrende e ritorna in campo più forte di prima. L'Udinese vorrebbe cederlo al Bari, dove Coda avrebbe la possibilità di percepire uno stupendio migliore di quello che ha garantito qui a Udine, ma rifiuta. Lui parlando con i giornalisti dice se devo andare via voglio avvicinarmi ad Empoli e un anno dopo viene ceduto e stavolta accetta la destinazione perché Parma gli consente di avvicinarsi proprio a casa sua. Nel Parma comunque gioca a titolo di prestito perché tornerà nell'Udinese anche se non avrà fortuna, non troverà spazio e nel 2015 viene ceduto nell'ambito dell'operazione che porterà Muriel alla Sampdoria alla formazione Ligure. Poi dalla Sampdoria scenderà di categoria, giocherà con il Pescara, sarà uno dei giocatori determinanti per la promozione in A della formazione abruzzese. Poi la sua carriera è proseguita nella Viterbese ma senza particolari acuti. Coda con l'Udinese ha disputato 135 gare di campionato più 11 di Coppa Italia, 10 in campo europeo, segnando un gol, un gol ininfluente, il 25 ottobre del 2012 in Udinese Young Boys 1-3. Coda con l'Udinese Young Boys 1-3. Coda con l'Udinese Young Boys 1-3.